Fratelli e sorelle nel Signore, oggi voglio parlarvi della preghiera, in particolare di alcune preghiere esaudite. Questo perché? Perché mi sono accorto che nella mia vita spirituale da credente una delle cose che mi ha colpito sempre molto è stato quando il Dio ha esaudito una preghiera. Quando ci sono stati dei fratelli, leggendo testimonianze di fratelli e di sorelle che hanno pregato il Signore e il Dio ha esaudito queste preghiere, io sono rimasto sempre molto colpito, cresceva in me quella fiducia, quella fede di pregare Dio e di ottenere l'esaudimento della preghiera. Perché la preghiera nel credente insieme allo studio della parola di Dio è molto importante. Credo che siano le due cose che sono importantissime per il credente. Nella vita del credente devono abbondare due cose soprattutto. La preghiera costante fatta a Dio è lo studio delle sacre scritture. Perché da queste due cose poi dipende tutta la vita del credente. Tutto quello che lui fa, tutto quello che il credente pensa, tutto quello che, diciamo, sente spiritualmente dentro di sé, dipende da queste due cose. E una di queste, oggi parleremo appunto di alcuni esempi della preghiera. La preghiera è un viaggio, la raffiguriamo in questa maniera, è un viaggio per mezzo del quale si va davanti a Dio a chiedere determinate cose al Signore. Si va davanti al Signore per lodarlo, per glorificarlo, per ringraziarlo e per chiedere determinate cose di cui tutti noi oggi abbiamo bisogno. Che i credenti hanno bisogno. In tutti i giorni della loro vita c'è sempre qualcosa che un credente deve chiedere al Signore per ottenere l'esaudimento di tale cosa. La preghiera, quindi, è importante. Ora, per ottenere l'esaudimento della preghiera la scrittura ci insegna che sono necessarie determinate cose. Ad esempio, non si deve vivere nel peccato. È chiaro che se uno vive nel peccato, come dice il cieco nato, non viene esaudito da Dio. Se uno vive nel peccato, è chiaro che Dio non gli volge il suo sguardo, il suo volto e non ascolta le sue preghiere. A meno che non siano preghiere del peccatore col quale chiede misericordia e chiede pietà a Dio e chiede il perdono del suo peccato. Ecco, in quel caso sì, ma altrimenti non viene esaudito. Un'altra caratteristica importante che c'è bisogno per ottenere l'esaudimento della preghiera è la fede. Infatti Giacomo dice che se uno non chiede con fede non otterrà l'esaudimento di nulla, di niente. Non sarà esaudito in nessuna cosa. Perché un uomo instabile, un uomo che prega, che chiede a Dio senza avere fiducia, non otterrà l'esaudimento di quello che chiede. Perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E poi se uno ha fede in Dio deve credere che egli è. Vedete, uno che ha fede in Dio crede che egli è. Crede che egli può dare quella cosa che chiede. Ma se uno prega solo per abitudine, solo perché qualcuno gli ha detto che deve pregare, ma non prega con fede, non crede che Dio gli possa veramente dare quello che chiede, non otterrà l'esaudimento della preghiera. Poi ci sono altri elementi. Naturalmente il Signore è esordato quando uno ha delle richieste da fare, delle cose da chiedere al Signore, le deve appunto chiedere in preghiera. Per preghiera io intendo quel momento nella giornata che ogni credente si deve prendere per inginocchiarsi davanti a Dio e fare questo viaggio, andare al monte, alla presenza dell'Iddio vivente e pregare. E deve trovare del tempo nella giornata, ogni giorno, perché la preghiera va fatta ogni giorno. Bisogna trovare del tempo e bisogna andare a incontrare il nostro Signore Dio in in preghiera per lodarlo, glorificarlo e domandargli quello di cui abbiamo bisogno. Quindi non mi riferisco a quella meditazione che uno fa tutto il giorno, perché ci sono taluni che dicono io prego tutto il giorno. Magari tutto il giorno è possibile anche che noi meditiamo e pensiamo a Dio, ma non è possibile, è quasi impossibile che si preghi tutto il giorno il Signore. Quindi quindi per preghiera intendo proprio quel momento che uno si ritaglia durante la giornata, si inginocchia nella sua cameretta, nel suo logo segreto, dove lui decide di farlo e invoca il Signore e passa del tempo in preghiera a invocare il Signore. Cioè deve passare anche del tempo, non può durare cinque minuti, dieci minuti. Voi immaginate, per quanto riguarda il tempo. Bisogna lodare Dio, bisogna dargli gloria, bisogna benedirlo, bisogna ringraziarlo per tutto quello che lui fa tutti i giorni. Poi dobbiamo pregare, intercedere per i santi, va bene, dobbiamo intercedere anche per i nostri fratelli, per i nostri familiari, per quelli che abbiamo evangelizzato. Poi dobbiamo chiedere tutte le cose di cui abbiamo bisogno, dobbiamo chiedere protezione, dobbiamo chiedere che il Dio ci preservi da ogni male, dal maligno. Quindi non può durare cinque minuti, credetemi, non può durare. Una preghiera fatta bene davanti al Signore non può durare cinque minuti. Quindi quando io parlo di preghiera rivolta a Dio, ecco, mi sto riferendo appunto a questo tipo di preghiera. Ha del tempo, ha un po' di tempo durante la giornata in cui uno si inginocchia e dedica quel tempo per pregare e adorare il Signore. Quindi questa è la preghiera a cui mi riferisco. E oggi appunto andiamo a vedere alcune di queste particolari preghiere fatte a Dio di cui Dio si è compiaciuto di esaudire. Sì, perché nella Bibbia ci sono anche preghiere non esaudite che hanno un significato anche quelle e un giorno parleremo anche di quello. Ma oggi prendiamo ad esempio e riflettiamo insieme su alcune preghiere che sono scritte nella Bibbia che hanno ottenuto l'esaudimento e che per noi ci danno degli insegnamenti, queste preghiere ci incoraggiano, ci fortificano a pregare anche noi con fede, con forza davanti al Signore e anche ci danno quella fede e ci incoraggiano a farlo. Perché ci dobbiamo esortare tutti i giorni, dobbiamo pregare gli uni per gli altri continuamente e dobbiamo anche esortarci a farlo, dobbiamo esortarci del continuo, perché ne abbiamo bisogno, perché siamo carne e polvere e tendiamo sempre ad allontanarci dalla via maestra. Quindi è bene che ci ricordiamo gli uni gli altri che dobbiamo pregare e mantenerci fermi nella verità e nella fede. Cominciamo, volevo cominciare con una preghiera, una preghiera in esodo. Al capitolo 17 di Esodo, questa preghiera è stata per me, mi ha sempre incoraggiato lungo la mia vita, ho sempre pensato a questa preghiera particolare, una preghiera veramente molto incoraggiante, che adesso andremo a leggere e vi faremo partecipi anche a voi di quello che questa preghiera mi ha insegnato. Capitolo 17 di Esodo, dal versetto 8. Allora venne Amalek, allora lo scenario è questo, la situazione è questa, il popolo di Israele andava verso la terra promessa di Canaan, dove Dio aveva promesso di farli entrare. Intanto il popolo di Israele si muoveva nel deserto e in taluni posti hanno incontrato anche dei nemici, hanno incontrato dei nemici. Tra questi nemici che hanno incontrato c'erano gli Amalekiti, gli Amalekiti che attaccarono Israele. Lo attaccarono dalla parte dove erano i più deboli, li attaccarono dal di dietro dove c'erano i bambini, perché in una marcia lunga nel deserto i più forti sono davanti e i più deboli sono di dietro. Ecco, in maniera diciamo come dei vigliacchi hanno attaccato Israele dal di dietro dove c'erano i vecchi, dove c'erano i bambini e Israele si è dovuto difendere. Ora, in questo scenario leggiamo queste parole. Allora venne Amalek a dar battaglia a Israele, a Refidim, e Mosè disse a Giosuè, facci una scelta d'uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle. E avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva, e quando la lasciava cadere vinceva Amalek. Or, siccome le mani di Mosè si erano fatte stanche, essi presero una pietra, gliela posero sotto, ed egli vi si mise a sedere. E Aronne e Ur gli sostenevano le mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Con le sue mani, così le sue mani, rimasero immobili fino al tramonto, fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, mettendoli a fil di spada. E l'Eterno disse a Mosè, scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo. E questo cosa avvenne? Gli Amalekiti attaccarono Israele. Mosè disse a Giosuè, che il capo dell'esercito era giovane, Giosuè e Mosè erano anziani, allora il giovane fece una scelta di uomini valorosi che scesero in battaglia fisicamente contro, diciamo, gli Amalekiti che li attaccaro. E Mosè invece, che era il condottiero, che era il capo di Israele, cosa fece? Si ritirò, aspettò da una parte, cosa fece? Fece quello che doveva fare, quindi salì sul monte. Sali sul monte nel senso salì alla presenza dell'iddio vivente vero. Sali sul monte per pregare. Sali sul monte e alzò le sue braccia al Signore. Queste braccia alzate sono un esempio di zelo, di ardore, di costanza. E c'è fatica, guardate, c'è una stanchezza quando si prega. Quando si prega con costanza c'è stanchezza, c'è una fatica, c'è del sudore da consumare in preghiera. Ma bisogna farlo perché, come abbiamo letto, la vittoria è venuta grazie alla preghiera di Mosè. Non è venuta solo per il valore che aveva Giosuè e i suoi, diciamo, soldati che combattevano sul campo contro gli Amalekiti. Ma la vittoria c'è stata perché Mosè è riuscito costantemente a tenere le braccia alzate, lo zelo e la costanza nella sua preghiera hanno fatto vincere Israele. Infatti è scritto che quando le braccia per la stanchezza si abbassavano Amalek avanzava. Invece quando Mosè teneva le braccialte avanzava Giosuè, vinceva Giosuè, avanzava contro il nemico. Questo cosa ci fa capire? Ci fa comprendere, innanzitutto voi sapete che le battaglie, la guerra dei credenti sono tante, le nostre battaglie, le nostre lotte sono tante e dov'è che noi troviamo la vittoria? La vittoria non la troviamo con le nostre braccia, la vittoria non la troviamo con i nostri sforzi, con la nostra intelligenza, con i mezzi che abbiamo a disposizione. La vittoria noi l'abbiamo quando noi ci inginocchiamo davanti al Signore, alla presenza del Dio vivente e vero e con costanza, con perseveranza e anche con lo zelo, l'artore, il fervore, con la fede in Dio noi preghiamo il Signore che ci sostiene e ci provvede ogni cosa, che Egli ci ascolta e ci esaudisce e ci dà la vittoria, ci dà la vittoria in ogni nostro lotta e in ogni nostro combattimento. Quindi è lì questa preghiera di Mosè, questa lotta di Mosè, perché anche Mosè lottò. È sempre un esempio per me, mi ricorda che ogni cosa che noi otteniamo, la otteniamo perché combattiamo in preghiera, con costanza e con perseveranza. Non la otteniamo perché siamo bravi. Tutte le cose buone, tutti i doni buoni che vengono dall'alto, li otteniamo per la preghiera e per la fede in Dio. Quindi dobbiamo fare come Mosè, qualsiasi problema abbiamo, qualsiasi desiderio c'è nel nostro cuore, non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo scoraggiarci, non importa quanto sia numeroso i nostri nemici, non importa quanto grande e potente sia il problema che abbiamo, la necessità, non importa. Qualsiasi gigante ci sia può essere abbattuto da due braccia alzate della preghiera e dalla fede in Dio. È questo che è importante, è questo il messaggio che ci trasmettono questi passaggi. Un'altra cosa che volevo farvi notare è che Mosè non era da solo, ma era assistito, era il condottiero. Quindi possiamo vedere in questa preghiera la preghiera di un anziano, la preghiera anche di un pastore verso la sua chiesa per un problema che c'è e viene assistito naturalmente. Deve essere assistito anche l'anziano, anche il pastore, dai fratelli, dalla comunità, deve avere delle assistenze. Innanzitutto non devono aggravare il suo animo, non devono inaspirlo, non devono farlo sentire male, perché è così, perché se gli creano problemi tutti quanti, come fa poi l'anziano, il conduttore, a concentrarsi magari in un problema grave che c'è nella comunità, qualcuno che è malato, come si fa? Quindi bisogna alleggerire di ogni problema l'anziano e il pastore. Quindi aiutarlo, come fecero Ur, come fecero Aron ed Ur, lo fecero stare comodo, gli misero una pietra dove lui si poteva sedere. Per stare comodo, per non avere problemi, ci doveva concentrare solamente nella preghiera, nell'invocare Dio per ottenere la vittoria nella battaglia di Giosuè contro gli Amalekiti. E poi gli hanno sostenuto anche le mani, lo zelo, l'ardore, la fede. Quindi come si sostiene? Come si sostengono le mani? Pregando, anche la comunità deve pregare, come prega l'anziano e il conduttore. Anche la comunità, anche gli assistenti devono pregare, devono avere fede secondo le necessità, devono sostenerlo, devono incoraggiare gli anziani, devono incoraggiare i conduttori, li devono fortificare, devono far sentire che sono vicini, che stanno anche loro combattendo, li stanno assistendo in tutte le cose che ci sono da fare. Fisicamente, materialmente, se è possibile, se ci si è vicini, se si fa parte di una comunità locale, col conforto, con la consolazione, con l'edificazione, in qualsiasi maniera, se è possibile, se si è lontani. Quindi in qualche maniera bisogna agire. Siamo chiamati tutti, siamo chiamati tutti a partecipare quindi alla battaglia. Ci sono quelli che sono in prima linea come Giosuè, i soldati valorosi, ma poi ci sono tutti gli altri, come Mosè, i suoi assistenti e tutto anche il resto del popolo, le donne, i bambini che c'erano là. Sicuramente si saranno raccolti in preghiera. Quindi bisogna essere uniti. Ecco un'altra cosa molto importante. Un'altra cosa molto importante per una comunità è essere uniti, uniti in Cristo, uniti nella parola, uniti nella verità naturalmente, di un cuore solo, di uno spirito solo, non uniti sotto una denominazione. Non è questa l'unità che richiede la parola, ma è l'unità di intenti, avere lo stesso desiderio, la stessa mente, lo stesso cuore, la stessa sofferenza quando si soffre, la stessa gioia quando uno solo gioisce. Quindi gioiamo tutti insieme, quando uno soffre, soffriamo tutti insieme. Questa è l'unità, che quando si innalza, quando si innalza in questa maniera una preghiera al Signore, egli non può fare altro che esaudirla. È importante questo. Quindi combattere tutti insieme, tutti. Secondo la posizione che ognuna è data, naturalmente, non tutti possono stare sopra il monte e non tutti potevano stare lì con Giosuè a combattere direttamente con i nemici, ma ognuno deve sapere qual è la sua posizione, perché già se ognuno si posiziona nel posto giusto, già sta aiutando coloro che devono prendere delle decisioni, coloro che devono fare determinate cose, che si devono dedicare alla preghiera, amministrare la parola. Se ognuno trova il suo posto, non ci sono complicazioni, non ci sono difficoltà e quindi va tutto meglio. Va tutto come deve andare secondo la volontà di Dio. Quindi non ci sono aggravamenti verso coloro che conducono. Ma guardate bene, non c'è solo un capo, non si parla di un capo solo ai fini della comunità, perché voi sapete bene che anche in famiglia c'è un capo della famiglia. Quindi Mosè potrebbe raffigurare, potremmo vedere in Mosè che sta sul monte con le braccia alzate nella preghiera, può raffigurare anche il capo famiglia. Sì, oppure tanti altri aspetti che potrebbero esserci, dove uno ha una responsabilità. Uno ha una responsabilità e quindi deve pregare per quella cosa. Uno è un capo famiglia perché, guardate bene, l'uomo è vero, è il capo famiglia, è il capo della donna, è il capo della moglie, però questo non è che è una cosa da prendere alla leggera, perché da una parte c'è appunto questo titolo, cioè tu sei il capo famiglia, però c'è anche una responsabilità, la famiglia da te dipende e quindi tu devi applicarti in maniera che la famiglia vada bene, vada il più bene possibile, quindi hai anche una grande responsabilità. E questa era la prima preghiera esaudita che volevo presentarvi, infatti cos'è successo? Perché Mosè, aiutato da Ur e da Aronne, riuscì a tenere le braccia alte fino al momento in cui Giosuè distrusse gli ammalichitti. E l'Eterno disse, e l'Eterno disse appunto scrivi, scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo. ecco, una preghiera esaudita è sempre meglio scriverla, no? Una preghiera esaudita è molto incoraggiante, è molto incoraggiante, quindi raccontare ai fratelli che questa preghiera è stata fatta ed ha ottenuto esaudimento è una parola sempre di grande incoraggiamento per i fratelli e per le sorelle. Quindi è sempre bene magari ricordare, ricordare perché questa è la volontà di Dio, di ricordare ai fratelli e alle sorelle che siamo stati esauditi in tante cose. Chiaro, alcune stiamo ancora aspettando di essere esauditi, altre il Signore ci ha detto di no e altre ancora vedremo come si presenteranno le cose. Però è importante perché, vedete, bisogna ricordare, bisogna ricordare, è importante davanti al Signore anche ricordare per ringraziare il Dio e per incoraggiare i fratelli per l'esaudimento ottenuto. e questa era la prima preghiera, ora volevo parlarvi di un'altra. Adesso andiamo, prima di questo, sì, andiamo a leggere quello che ha detto l'Apostolo Paolo. Abbiamo parlato, abbiamo parlato della preghiera di Mosè che era una lotta, che in preghiera si lotta e questo è ricordato, è scritto nell'Epistola di Paolo ai Colossesi, sono scritte queste parole. Capitolo 4, versetto 12 Epafra, che è dei vostri, è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, affinché, perfetti e pienamente accertati, stiate fermi in tutta la volontà di Dio. Vedete, Epafra, che era a servizio di Dio, serviva la Chiesa di Colosse, era andata a trovare l'Apostolo Paolo. E manda appunto i saluti, l'Apostolo Paolo di Epafra dice, dice, vi saluta. E poi dice, egli lotta sempre, vedete, quindi in preghiera. Quella raffigurazione che abbiamo visto prima di Mosè che prega sul monte, di Giosuè che combatte, è la figura della preghiera che noi facciamo tutti i giorni. Perché la nostra preghiera è un combattimento, è una lotta, è una lotta e non ci dobbiamo stancare e non dobbiamo venire meno in nessuna maniera. Dobbiamo essere costanti, determinati a pregare per ottenere l'esaudimento di quello di cui abbiamo bisogno. Non importa di quello di cui tu hai bisogno, se chiedi qualcosa che è, secondo la volontà di Dio, se chiedi qualcosa che piace al Signore, che non chiedi per spendere nei tuoi piaceri, che non chiedi solo per un capriccio, ma sono cose utili che veramente servono, ti servono. Tu chiedi al Signore, rendi note tutte le tue richieste al Signore affinché Egli poi ti provveda e abbi fede che Lui ti provvederà. Un'altra preghiera, adesso andiamo a parlare di un'altra preghiera che fece Anna. Questa è un'altra di quelle preghiere a cui io mi sono attaccato sempre, nei miei momenti di scoraggiamento, di abbattimento. Questa preghiera innanzitutto la prendo come esempio, la preghiera di Anna, Anna, la madre di Samuele, del profeta Samuele, la prendo ad esempio, sempre per spiegare cosa è la preghiera che qui la scrittura per la preghiera di Anna la definisce come lo spandere il proprio cuore, la propria anima davanti a Dio. Infatti la preghiera è proprio questo. Noi andiamo al Signore e cosa facciamo? Spandiamo tutti i nostri sentimenti, tutto il nostro cuore, tutto quello che abbiamo dentro di noi, lo riversiamo al trono della grazia, ai piedi del Signore, affinché Lui ci comprenda, affinché Lui ci capisca, affinché Lui veda ciò di cui abbiamo bisogno e ci consoli e ci dia tutto ciò che ci è necessario, di cui abbisogniamo in quel momento. Dobbiamo andare a leggere l'esaudimento della preghiera di Anna in Prima Samuele, capitolo 1. Ora, il marito di Anna si chiamava Elcana. Elcana aveva due mogli, una si chiamava Peninna e un'altra Anna. Anna era sterile, invece Peninna aveva avuto dei figlioli. Peninna perseguitava, inaspriva, faceva del male comunque ad Anna, la mortificava appunto per, la mortificava perché Anna non aveva ancora figlioli, cioè il Dio l'aveva resa sterile, non gli permetteva di avere figlioli. Peninna le faceva, diciamo, la mortificava. Ora leggiamo Prima Samuele, capitolo 1, dal versetto 6. E la rivale mortificava continuamente Anna a fin di inasprirla perché l'Eterno l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la mortificava a quel modo, Ondella piangeva e non mangiava più. E Elcana suo marito le diceva, Anna perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuor tuo? Non ti valgo io più di dieci figlioli? E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Scilo, Anna si levò. Il sacerdote Egli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio dell'Eterno. Ed ella aveva l'anima piena di amarezza e pregò l'Eterno piangendo dirottamente. E fece un voto dicendo, o Eterno degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figliolo maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita. E il rasoio non passerà sulla sua testa. E come ella prolungava la sua preghiera dinanzi all'Eterno, Eli stava osservando la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Onde Eli credette che la fosse ubriaca, e le disse, quanto durerà cotesta tua ebbrezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispondendo disse, no signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mia mi ha fatto parlare fino adesso. Ed Eli replicò, va in pace, e lì Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo sembiante non fu più quello di prima. Poi venne, al versetto 19, la seconda parte, Vedete quindi, Peninna, talvolta noi abbiamo bisogno di qualcosa che preghiamo, preghiamo il Signore. Abbiamo bisogno, e c'è il mondo che ci si mette contro, c'è qualcuno che ci schernisce, c'è qualcuno che ci mortifica, no? Hai bisogno di un marito, hai bisogno di una moglie, hai bisogno magari proprio un figlio, che una donna è sterile e non riesce a ottenere un figlio? E c'è sempre qualcuno che ti sta addosso, che oltre l'aggravio che hai già naturale davanti al Signore, che non ti dà quella cosa, che ancora non hai ricevuto una certa cosa, ecco che ci sono quelli che ti vogliono sbranare, che ti vogliono atterrare sempre di più, che ti vogliono schiacciare. Ebbene, non bisogna fermarsi, non bisogna farsi scoraggiare, questo è scritto per nostro ammaestramento, tutti questi attacchi che subiamo dal mondo, sia al lavoro, in qualsiasi cosa, quelli che non capiscono il nostro dolore, non hanno interesse di soffrire con noi, quelli che sono contro di noi, i nostri nemici, e badate bene che il cristiano ne ha tanti di nemici, tutti quelli del mondo sono nostri nemici, non sono amici, tutti quelli del mondo che giacciono nel maligno sono nostri nemici, quindi finché possiamo vivere in pace con loro va bene, ma a volte ci fanno la guerra, loro ci fanno la guerra, ci mortificano, ci insultano, ci offendono, noi non possiamo vincere il male con il male, dobbiamo vincere il male con il bene. Per quanto riguarda la preghiera, quello di cui abbiamo bisogno di una guarigione, di un figlio, di un marito, di una moglie, di un lavoro anche, importante, bisogna presentarlo davanti al Signore. Vedete Anna qui, passò del tempo, perché passarono anni, quindi non è che fece una preghiera sola Anna, ne fece diverse. Ebbene, ebbene poi, quando fece una preghiera di questo tipo, come scritta, aveva l'anima piena di amarezza, pregò l'Eterno piangendo dirottamente, vedete quante volte ci siamo inginocchiati a pregare e piangere per una certa cosa. Ebbene, ebbene il Signore ascolta le preghiere con le lacrime, le ascolta, piangere non è una cosa negativa davanti al Signore, perché qualcuno si è permesso pure di dire che non si deve piangere davanti al Signore, ma questi non conoscono le scritture, non conoscono veramente, non sanno quello che si deve provare quando si prega. Ebbene, quando si è pieni di amarezza, quando si è addolorati, quando si è bisogno di qualche cosa, bisogna fare come ha fatto Anna. Anna si è inginocchiata alla presenza di Dio, perché allora c'era la convinzione che Dio era presente nel suo Tempio. Ebbene, Anna si è inginocchiata lì alla presenza di Dio per essere esaudita, ma oggi noi lo possiamo fare in ogni luogo. In ogni luogo sappiamo che è un luogo dove si può adorare il Dio, perché il Dio è presente in ogni luogo. Allora ci dobbiamo inginocchiare, pregare con tutto il cuore, spandere tutta la nostra anima, tutta la nostra amarezza, tutte le nostre, diciamo, difficoltà, tutte le nostre paure le dobbiamo spandere davanti al trono della grazia, perché il Signore ci libererà da ogni paura, ci libererà da tutti i nostri pesi, Egli ci darà ciò di cui noi abbiamo bisogno. Però dobbiamo farlo con tutto il cuore, bisogna pregare con tutti i nostri sentimenti, con tutto il nostro cuore. E se c'è da piangere, se c'è qualcosa che si deve ottenere, che ci comprime veramente il cuore, se abbiamo il cuore rotto, lo spirito contrito, preghiamo, preghiamo, anche se si piange davanti al Signore. Anzi, è cosa gradita, perché il Signore tiene un'otre, tiene un'otre dove si depositano tutte le nostre lacrime, naturalmente lacrime giuste, lacrime fatte in preghiera, fatte per la giustizia, che sono state, diciamo, versate, lacrime versate a motivo di giustizia, a motivo di verità, a motivo dell'amore per la Chiesa, a cagione di Cristo. Certo, non lacrime per il peccato. Se uno viene malmenato perché ha rubato, è chiaro che quelle lacrime di dolore, quelle non fanno parte, perché sono una giusta punizione a quello che si è fatto. Ma se uno patisce ingiustamente e versa delle lacrime e grida a Dio, quelle lacrime vengono raccolte dal Signore, vengono conteggiate, e Dio ne tiene conto. E come Anna ha ottenuto, è venuto il momento, sono passate degli anni, ma è venuto il momento che Dio si è ricordato di lei, è scritto. È scritto appunto, l'Eterno si ricordò di lei e rimase incinta, ottenne quello di cui avevo bisogno, perché una donna sterile, rimanere sterile, era un grande obrobrio prima, una grande infamia, qualcosa veramente di molto pesante. Lo è un po' anche oggi, ma prima lo era molto di più, perché prima avevano molti figlioli, quindi non averne neanche uno era proprio una vergogna per le donne. Viene il momento, perseverando nella preghiera, pregando con tutto il cuore, viene il momento che Dio si ricorda, viene il momento che Dio ha stabilito, viene il momento che viene il momento dell'esaudimento della preghiera. Però non si deve venire meno, si deve fare sempre, con intensità, con tutto il cuore, con zelo, con ardore, con fede a Dio, pregare del continuo per ottenere l'esaudimento della preghiera. E come Anna ottenne appunto un figliolo, così noi, ancora noi oggi, possiamo ottenere quello di cui abbiamo bisogno, quello che noi chiediamo al Signore, chiedendo con fede e mettendoci tutto il cuore, pregando con tutto il cuore, con tutta l'anima, come fece appunto Anna. Ma adesso andiamo avanti e leggiamo un'altra preghiera, un'altra preghiera che è stata esaudita, una liberazione. Andiamo a leggere del re Ezechia, la liberazione del re Ezechia, e poi del re Ezechia leggeremo anche la guarigione, perché era infermo e pregò per la sua guarigione e Dio lo esaudì. Ma prima di questo leggiamo come Dio ha liberato Gerusalemme. Siccome Israele e anche Giuda erano malvagi davanti al Signore, perché si erano allontanati dai comandamenti di Dio, il Dio gli mandava dei nemici. In questo caso mandò gli assiri, mandò gli assiri, mandò a combattere contro Israele. Gli assiri circondarono Gerusalemme, l'assediarono. Diciamo che prima di assediare Gerusalemme avevano distrutto molte nazioni, molti re, diversi re potenti, abbatterono tutti gli idoli che incontrarono nel loro passaggio. E quando circondarono Gerusalemme, un servo di Nebuchadnezzar, che era il re, un servo di Nebuchadnezzar di nome Rab-Shakeh, di nome Rab-Shakeh, disse queste parole contro Israele, che noi andremo a leggere. Capitolo 18 di Seconda Re, dal versetto 28. Allora, Rab-Shakeh, quindi la situazione è questa, che l'esercito Assiro aveva circondato Gerusalemme e era pronto ad assediare Gerusalemme per abbatterli, per abbatterli e distruggere. Naturalmente c'era sempre, all'inizio di ogni battaglia, c'era sempre un tentativo di scoraggiare o di chiedere di arrendersi. Comunque lo scopo delle parole di questo Rab-Shakeh erano di scoraggiare il popolo di Israele, quindi farlo arrendere. E disse queste parole. Allora Rab-Shakeh, stando in piedi, gridò ad alta voce e disse in lingua giudaica, udite la parola del gran re, del re d'Assiria, così parla il re. Non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani. Ne vi induca Ezechia a confidarvi nell'Eterno, dicendo l'Eterno ci libererà certamente, e questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Non date ascolto ad Ezechia, perché così dice il re d'Assiria, fate pace con me e arrendetevi a me, e ognuno di voi mangerà del frutto della sua vigna e del suo fico e berrà dell'acqua della sua cisterna, finché io venga e vi meni in un paese simile al vostro, paese di grano e di vino, paese di pane e di vigne, paese di olivi, di olio e di miele, e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto ad Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo l'Eterno ci libererà. Ha qualcuno degli dèi, delle genti, liberato il proprio paese dalle mani del re d'Assiria? Dove sono gli dèi di Amat e di Arpad? Dove sono gli dèi di Sefarvaim, di Hena e d'Iva? Hanno essi liberata Samaria dalla mia mano? Quali sono fra tutti gli dèi di quei paesi, quelli che abbiano liberato il paese loro dalla mia mano? L'Eterno avrebbe egli a liberare dalla mia mano Gerusalemme? E il popolo si tacque e non gli rispose nulla, poiché il re aveva dato quest'ordine, non gli rispondette. Cosa fece? Poi dopo, oltre a queste parole che il Rabshakeh disse, poi ci fu una lettera, ci fu una lettera con gli stessi insulti, le stesse parole contro Gerusalemme e contro il re d'Israele, contro l'iddio onnipotente, contro l'Eterno. Gli fece ricapitare una lettera. Una volta ricevuta questa lettera, Ezechia, guardate cosa fa, allora al versetto quindi 19-14 di Seconda Re. Ezechia, ricevuta la lettera, per le mani dei messi la lesse e poi salì alla casa dell'Eterno e la spiegò davanti all'Eterno e davanti all'Eterno pregò in questo modo. O Eterno, Dio di Israele che siedi sopra i cherubini, tu, tu solo sei l'iddio di tutti i regni della terra, tu hai fatto i cieli e la terra. O Eterno, porgi l'orecchio tuo e ascolta, o Eterno, apri gli occhi tuoi e guarda, ascolta le parole di Sennacherib che ha mandato quest'uomo per insultare l'iddio vivente. È vero, O Eterno, il re da Siria hanno desolato le nazioni e i loro paesi e han gettati nel fuoco i loro dèi, perché quelli non erano dèi, erano opera delle mani degli uomini, erano legno e pietra ed essi li hanno distrutti. Ma ora, O Eterno, O Dio nostro, salvaci, te ne supplico dalle mani di costui, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo, O Eterno, sei Dio. Allora Isaia, figliolo di Amoz, mandò a dire ad Ezechia, così parla l'Eterno, l'iddio di Israele, ho udito la preghiera che mi hai rivolta riguardo a Sennacherib, re d'Assidia. Poi andiamo avanti e leggiamo, quindi, ha udito, il Dio ha udito la preghiera e l'ha esaudita. Guardate cos'è accaduto, come Dio ha liberato il suo popolo, la sua città di Gerusalemme. Al capitolo 19, versetto 35, accadde questo. E quella stessa notte avvenne che l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri centottantacinque mila uomini e quando la gente si levò la mattina, ecco, erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re d'Assiria, levò il campo, partì e se ne tornò a Ninive, dove rimase. E avvenne che, mentre egli stava adorando nella casa del suo Dio, Nisroch, i suoi figlioli Adrammelech e Sarezer, lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. E Saradon, suo figliolo, regnò in luogo suo. Vedete, quindi, questo re insultò, questo re mandò, re Sennacherib mandò, attraverso i suoi servitori, Rabbi Shachè, ad insultare l'Eterno. Cioè, ha equiparato l'Eterno agli dei di pietra e di legno che c'erano stati nelle altre nazioni. E' per questo che li aveva potuti abbattere, quegli dei, perché non erano veramente Dio. Ma l'Eterno di Israele è l'Eterno, è colui che ha fatto i cieli e la terra, è colui che ha fatto ogni cosa. E Zecchia, e Zecchia cosa ha fatto? Ha spiegato quella lettera malvagia, quegli insulti contro l'Eterno, ha innalzato una preghiera da richiesta di liberazione da questo re potente. Se guardate bene, all'epoca era l'esercito più potente. Ha pregato il Dio per essere liberato, perché era veramente, era rinchiuso in una morsa, e il Dio ha udito la sua preghiera e l'ha esaudita. E l'ha liberato in maniera potente, guardate bene. L'angelo dell'Eterno, nel campo degli Assiri, si levò l'angelo dell'Eterno e colpì, e uccise 185.000 uomini. L'angelo dell'Eterno è un messaggero particolare. L'angelo dell'Eterno è Gesù Cristo, perché voi sapete che Gesù è esistito, esiste da sempre, non è stato creato. Nel Vecchio Testamento, quando si dice l'angelo dell'Eterno, ma non un angelo dell'Eterno, perché di angeli Dio ne ha tanti, ma quando mandava questo particolare tipo di messaggero, era un messaggero particolare, era appunto Dio egli stesso. Questo lo si legge in diversi punti delle scritture, quando si manifesta, poi si capisce chiaramente che anche egli è Dio. Ora, non era Dio padre, quindi di conseguenza, aggiungiamo alla conclusione che era Gesù. Oggi lo conosciamo come Gesù, ma nel Vecchio Testamento veniva chiamato appunto l'angelo dell'Eterno. che uccise, passò nel campo degli Assiri e uccise 185.000 uomini. Liberò quindi Israele, liberò meglio Gerusalemme, che era assediata da un esercito più potente. Cioè Gerusalemme, Ezechia, il re Ezechia non avrebbe potuto far fronte con i suoi soldati contro questo esercito nemico, ma ha pregato il Dio. Vedete, la liberazione è venuta per mezzo della preghiera di Ezechia e del re fatta a Dio. Quante volte ci giungono anche delle notizie, delle notizie come ha ricevuto Ezechia, le notizie dai nemici ci giungono, che ci fanno sapere che praticamente per certe cose sono impossibili che noi le otteniamo. oppure ci mandano delle lettere, arriva da paese lontano magari delle informazioni, una malattia che sta arrivando, una pestilenza, guerre, carestie, che si stanno per abbattere terribili cose terribili. Ma noi chi abbiamo come liberatore, come nostro rifugio? Noi abbiamo l'Eterno, l'Eterno che può ogni cosa, che ci può proteggere, ci può liberare da ogni male. Quindi questa fiducia noi dobbiamo avere in Dio, che Egli ci protegge da ogni male. Non dobbiamo temere quando si dice che sta arrivando una pestilenza particolare, ebola, altre malattie, altri virus, altre cose. Noi non ci dobbiamo far spaventare da nulla, da nessuna voce che arriva, perché l'Eterno è il nostro Dio. Noi abbiamo fatto di Dio il nostro rifugio, la nostra fortezza, colui che ci protegge è l'Eterno. Noi alziamo gli occhi ai monti e il nostro aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Il nostro cuore non deve tremare, non deve sgomentarsi, non si deve spaventare davanti a nulla, perché noi abbiamo fatto di Dio il nostro rifugio. Quindi non dobbiamo smuoverci, nulla deve smuovere il nostro cuore. Quello che dobbiamo fare è, prima che siamo presi dall'ansietà o da paura, o abbiamo bisogno di una liberazione o di una consolazione, dobbiamo andare a Dio in preghiera, riversare tutta la nostra anima, tutto quello che noi abbiamo dentro davanti al Signore. E Lui prenderà le cose che saranno negative, se le toglierà, e quando ci riempirà, ci metterà dentro di noi sapienza, metterà dentro di noi un cuore calmo, tranquillo, sereno. Quando torneremo da questo viaggio in preghiera, noi avremo quello di cui abbiamo bisogno per andare avanti in questa vita. Ogni giorno, ogni giorno, perché ogni giorno possono arrivare notizie cattive, stanno licenziando, stanno arrivando pestilenze, arrivano tanti, tanti pericoli, guerre, possiamo sentire un po' di tutto, ma il nostro cuore non si deve smuovere in nessuna maniera. A qualsiasi tipo di notizia, il messaggero dell'avversario, il messaggero del maligno, può venire a dirci tutto quello che vuole, noi dobbiamo gridare a Dio, Signore liberaci, perché questo è quello che il Signore vuole da noi, che facciamo. Non importa quanto sia forte il nostro nemico, quanto siano potenti le notizie che giungono anche da paese lontano, ma noi abbiamo fatto di Dio il nostro rifugio e noi siamo sotto le ali dell'Eterno, dell'Idio nostro, quindi che non ci colpirà nulla, non ci colpirà il sole di giorno, né la luna di notte. Egli benedirà il nostro uscire, il nostro entrare, quindi siamo nelle mani dell'Eterno. Siamo stati comprati a caro prezzo, siamo stati salvati, quindi il prezzo è stato pagato del nostro riscatto. Se Dio ha ritenuto, diciamo, di doverci acquistare, vuol dire che ci ha dato un valore, se ci ha comprati ci ha dato un valore, e il valore è grande, il valore è il sangue del suo amato figliolo, quindi se ci ha reputati, non degni tanto che dipendeva da noi, ma si ha reputato, diciamo, secondo il beneplacito della sua volontà di acquistarci, di salvarci, perché dovremmo noi, diciamo, perdere la fiducia e smarrirci nella paura di tutto quello che ci può succedere attorno? Se Egli ci ha comprati, ci darà anche tutto quello di cui abbiamo necessità. Se abbiamo bisogno di qualcosa, chiediamola al Signore, il Signore ci libererà, il Signore ci darà quello di cui abbiamo bisogno. Perché l'Eterno è potente, è potente, la liberazione viene da Sion, il Liberatore viene da Sion, colui che ci libera è l'Eterno, è il nostro Signore Gesù Cristo, che viene a farci giustizia anche quando subiamo delle ingiustizie. Quindi noi non dobbiamo ricercare le nostre vendette, non dobbiamo ricercare la morte dei nostri avversari, noi dobbiamo pregare per loro che si ravvedano, ma noi sappiamo anche che i giudizi di Dio sono pronti contro quelli che si mettono contro il popolo di Dio, contro la chiesa dell'iddio vivente e vero. Quindi riceveranno quello che si meritano. Noi da parte nostra dobbiamo invocare il Signore, questo, questo dobbiamo fare. Ma ora vediamo sempre il re Zecchia, cosa accadde al re Zecchia. Al capitolo 20 di seconda re, leggiamo che Zecchia si è ammalato. Capitolo 20, versetto 1 In quel tempo Zecchia fu malato a morte. Il profeta Isaia, figliolo di Amoz, si recò da lui e gli disse Così parla l'Eterno, metti ordine alle cose della tua casa, perché tu sei un uomo morto. Non vivrai. Allora Zecchia volse la faccia verso il muro e fece una preghiera all'Eterno, dicendo Oh Eterno, te ne supplico, ricordati come io ho camminato nel tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore e come ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi. Ed Zecchia dette in un gran pianto. Isaia non era ancora giunto nel centro della città quando la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini Torna indietro e dia di Zecchia Principe del mio popolo Così parla l'Eterno l'iddio di Davide, tuo padre Ho udita la tua preghiera Ho vedute le tue lacrime Ecco, io ti guarisco Fra tre giorni salirai alla casa dell'Eterno Aggiungerò alla tua vita Da quindici anni libererò te e questa città dalle mani del re d'Assirio e proteggerò questa città per amor di me per amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo Vedete quindi cosa è successo qui ad Ezechia Ezechia una volta che si ammalò e Isaia gli disse che sarebbe morto si girò verso il muro dette in un gran pianto e innalzò una grande preghiera una preghiera con tutto il cuore perché le lacrime guardate bene significa che escono le lacrime escono perché uno ha un sentimento forte in quel momento che lo sta turbando è questo sentimento è questo che rende le nostre preghiere il sentimento quando si innalzano le preghiere col cuore con tutto il cuore con fede queste sono preghiere che sono gradite al Signore vengono ascoltate e infatti qui l'Eterno lo dice vedete ho veduto ho udita la tua preghiera perché Dio noi non lo vediamo è Dio ma egli ci ascolta sente anche i nostri sospiri i nostri dolori le nostre sofferenze e dice l'Eterno ho udita la tua preghiera vedete e ho vedute le tue lacrime quindi non solo il Signore ascolta le preghiere ma vede anche le lacrime perché le lacrime sono legate al sentimento che noi proviamo quindi quando ci sono le lacrime vuol dire che siamo veramente vuol dire che il sentimento lì il cuore è al massimo ricordatevi ricordatevi che sta scritto anche che è scritto che quando il viso è mesto il cuore diventa migliore quindi questo vuol dire che nella sofferenza il cuore è più vicino a Dio il cuore delle persone che soffrono è più vicino a Dio quindi talvolta il Signore ci lascia delle sofferenze ci fa soffrire e non ci toglie questa sofferenza perché perché soffrendo noi piangiamo di più in preghiera lanciamo delle preghiere con tutto il cuore più intense più ferventi e zelanti ed escono anche le nostre lacrime e magari ci dà tante altre cose il Signore quella sofferenza non la toglie oppure non la toglie subito perché vuole che continuiamo a pregare con tutto il cuore e anche piangendo anche piangendo perché se uno piange ci sta mettendo veramente tutto il cuore in quella in quella preghiera se uno piange in preghiera e vedete dunque quindi quindi pregare Dio con tutto il cuore si riceve poi dal Signore quello di cui si ha bisogno anche il re Ezechia ottenne questa grande guarigione ora passiamo adesso passiamo a esaudimento di preghiera di qualcosa che è avvenuto anche nel Nuovo Testamento andiamo a leggere nel libro degli Atti degli Atti degli Apostoli una risurrezione dei morti voglio prendere anche una risurrezione dei morti perché il Dio è potente da compiere ogni cosa e ad ascoltare le preghiere e desideri la sofferenza della sua Chiesa questo è importante capitolo 9 versetto la risurrezione di Tabita capitolo 9 dal versetto 36 or in Iope vera una certa discepola chiamata Tabita il che interpretato vuol dire gazzella Costei abbondava in buone opere e faceva molte lemosine e avvenne in quei giorni che la infermò e morì e dopo averla lavata la posero in una sala di sopra e perché l'idda era vicina a Iope i discepoli udito che Pietro era là gli mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro Pietro allora levattosi se ne venne con loro e come fu giunto lo menarono nella sala di sopra e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che gazzella faceva mentre era con loro ma Pietro messi tutti fuori si pose in ginocchio e pregò e voltatosi verso il corpo disse Tabita levati ed ella aprì gli occhi e veduto Pietro si mise a sedere ed egli le die la mano e la sollevò e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita e ciò fu saputo per tutta Ioppe e molti credettero nel Signore e Pietro dimorò molti giorni in Ioppe da un certo Simone Cogliaio vedete cos'era successo qui Tabita era una persona una donna credente che faceva molte le mosine al popolo che aiutava le vedove aiutava la chiesa era di aiuto alla chiesa quando è venuta a mancare tutta la chiesa ne ha avuto un danno un danno infatti vedete le vedove è scritto questo per farvi capire lo stato d'animo di tutta la chiesa e poi Dio esaudì non solo il fatto esaudì che era la preghiera di Pietro che fu fatta e tornò in vita Tabita ma guardate bene che a quella preghiera dobbiamo aggiungerci anche tutta la sofferenza e i pianti della chiesa intera che riceveva beneficio da quella donna infatti è scritto e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro quindi c'era veramente una partecipazione con tutto il cuore della chiesa delle sorelle delle vedove che questa donna aveva aiutato vedete quindi quanto è importante anche qual è il risultato di fare delle opere buone di fare delle opere che avrete delle persone che vi ameranno avrete delle persone che pregheranno per voi che ringrazieranno il Dio per voi che pregheranno con forza per voi quindi dobbiamo essere abbondanti anche nelle opere buone fratelli secondo l'opportunità che avremo non dobbiamo non dobbiamo farci diciamo sfuggire l'occasione di fare del bene ai santi perché veramente ne avremo del bene davanti a Dio e qui questa donna fece tanto del bene e queste queste vedove piangevano sicuramente pregavano per lei volevano hanno fatto chiamare Pietro perché si aspettavano questo si aspettavano avevano il desiderio avevano avevano questa necessità che questa donna tornasse in vita per continuare ad aiutarli hanno avuto questa fiducia hanno fatto chiamare Pietro Pietro è venuto e è andato Pietro non ha detto non c'è niente da fare ormai è morta Pietro è andato con loro è andata con loro e poi e poi si pose in ginocchio pregò pregò e poi a un certo punto il Dio si vede gli ha dato una rivelazione gli ha detto Tabitha levati ed ed ella aprì gli occhi e quindi tornò in vita vedete la preghiera si è quella di Pietro che è stata esaudita ma lì come desiderio come come fiducia come intensità di cuore come 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 zelo come cuore c'era quello di tutta la chiesa tutta la chiesa ha partecipato a quella preghiera anche se Pietro mise tutti fuori e lo fece da solo però tutta la chiesa voleva questa risurrezione tutta la chiesa era sofferente per quella di partenza di questa donna e la la rivolevano in vita hanno desiderato ardentemente che tornasse in vita e il Dio il Dio la fece tornare in vita vedete quindi noi crediamo ho voluto citare anche questo perché noi crediamo anche in questo noi crediamo che Dio è potente anche da risuscitare dai morti capite il Dio non è che potente solo da guarire da un raffreddore il Dio può guarire anche da una grave malattia come anche abbiamo visto in Ezechia il Dio può guarire qualsiasi tipo di malattia il Dio può anche risuscitare far risuscitare dai morti perché Egli è Dio e nulla è impossibile alla sua mano nulla e questo dobbiamo sapere dobbiamo averlo presente sempre nella nostra mente nel nostro cuore perché qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno noi lo possiamo presentare in preghiera davanti a Dio con la certezza che Egli è potente da fare questo e al di là anche di quello che noi domandiamo molto 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 al di là può fare molto di più di quello che noi domandiamo però dobbiamo avere questa fiducia dobbiamo credere innanzitutto voglio dirvi anche questo che già inginocchiarsi e mettersi in preghiera e chiedere a Dio qualsiasi cosa riconoscendolo in tutte le nostre vie qualsiasi cosa noi già stiamo manifestando fede praticamente se uno non prega non si prende il suo tempo per pregare cosa sta manifestando non sta manifestando fede anzi sta disprezzando la fede sta disprezzando la parola sta disprezzando il fatto che Dio ti sta aspettando ogni giorno che tu lo vada a trovare noi diciamo oh signore ti amo signore io ti voglio bene signore io senza di te non posso fare sì ma senza di lui non possiamo fare nulla lo diciamo con la bocca ma quante volte lui ci sta aspettando che andiamo a trovarlo in preghiera quante volte al giorno ci inginocchiamo per andare a trovarlo e non siamo forse ipocriti se facciamo così che con la bocca diciamo signore io ti amo tanto oh io amo solo te sì però quanto tempo dedichi in preghiera per andare appunto a trovare il signore Dio che tu dici di amare quindi quindi fratelli non dobbiamo essere ipocriti dobbiamo manifestare con le nostre opere quello che siamo veramente dentro noi crediamo in Dio noi crediamo che Lui ascolta le nostre preghiere allora se lo crediamo dobbiamo pregare e se no che senso ha io credo che Dio è potente e ci ascolta ma non preghiamo mai non ci prendiamo del tempo per andare per inginocchiarci e andare a trovare il signore per qualsiasi cosa uno può anche non avere nessun tipo di necessità devi andare lo stesso in preghiera devi lodare glorificare il signore devi ringraziarlo per tutto quello che ti ha dato non hai nessun tipo di problema lo devi ringraziare che non hai problemi poi verranno non ti preoccupare prima o poi vengono i problemi più o meno gravi però vengono allora alleniamoci alleniamoci ad andare in preghiera tutti i giorni per presentare tutte le nostre necessità al trono della grazia perché questo è gradito a Dio guardate bene è già una manifestazione di fede perché senza fede è impossibile piacergli e poi dice anche perché se uno si rivolge a Dio deve anche credere che egli è se noi andiamo in preghiera la prima cosa che stiamo manifestando cos'è? che crediamo che Dio va adorato che va pregato e quindi e quindi lo stiamo facendo quindi crediamo che Dio esista crediamo che Dio ascolta crediamo che Dio esaudisce e con la preghiera noi manifestiamo tante cose chi non prega altrettanto manifesta tante cose manifesta che non so se crede in Dio quanto crede in Dio non so se crede che Dio possa ascoltarlo in preghiera non so se se crede che Dio possa esaudirlo perché se lui lo credesse veramente andrebbe in preghiera si metterebbe in ginocchio a pregare Dio si prenderebbe del tempo come un fidanzato va a trovare la fidanzata si prende del tempo no? il fidanzato deve andare a trovare la sua fidanzata ebbene noi siamo la chiesa la sposa di Cristo non deve andare a trovare la sposa il Signore il suo sposo in preghiera andiamo a trovarlo senza nessun impedimento senza nessuna riserva ci dobbiamo lo so siamo pieni di lavoro siamo pieni di impegni perché la vita le ore sono quelle sono 24 ore 8 ore per mangiare scusate 8 ore per lavorare 3 ore per mangiare chi c'ha famiglia chi c'ha da cosa chi c'ha un'altra quando mi metto in preghiera lo devi trovare il tempo lo devi trovare perché se io conoscessi la tua situazione un'oretta al giorno almeno almeno un'oretta al giorno te la riesco a trovare o ti alzi prima o vai a letto più tardi o comunque lo devi trovare quindi quante cose inutili facciamo durante la giornata quante ne facciamo di cose inutili che si possono recuperare il tempo almeno si può recuperare e impiegarlo in un'altra maniera tra studio delle scritture e preghiera si può impiegare meglio perché badate bene pregare e studiare le scritture stiamo mettendo i mattoni della nostra eternità non sottovalutate queste cose ogni volta che si prega e si studiano le scritture noi stiamo mettendo i mattoni della nostra eternità stiamo costruendo per la nostra eternità perché questo vuol dire vuol dire essere salvati vuol dire ottenere la vita eterna la vita eterna in comunione con Cristo con Cristo e quindi quindi se uno non prega non studia le scritture non mette i mattoni dell'eternità e quindi i rischi sono tanti di rimanere fuori c'è il rischio di rimanere fuori ricordatevi che le dieci vergine cinque sono rimaste fuori sono partite bene avevano un po' d'olio ma non ce l'avevano a sufficienza quindi diamoci da fare fratelli e sorelle preghiamo tutti i giorni leggiamo le scritture perché veramente non dobbiamo rimanere senza olio in nessuna maniera l'olio deve ardere sempre nella nostra lampada dobbiamo applicarci a tutte quelle cose che permettono alla lampada alla nostra lampada di rimanere sempre accesa allo zelo dentro di noi deve essere sempre acceso dobbiamo essere sempre zelanti e ferventi nelle cose del Signore non deve spegnersi la nostra lampada non si deve spegnere mai ora ora leggiamone un altro in atti degli apostoli un'altra liberazione un po' più avanti leggiamo come il Dio libera Pietro capitolo 12 di atti degli apostoli al versetto 1 ora intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo fratello di Giovanni e vedendo che ciò era grato ai giudei continuò e fece arrestare Pietro or erano i giorni degli azimi e presolo lo mise in prigione dandolo in guardia a quattro mute di soldati di quattro luna perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo Pietro dunque era custodito nella prigione ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui ora quando Erode stava per farlo comparire la notte prima Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendè nella cella e l'angelo percosso il fianco a Pietro lo svegliò dicendo levati prestamente e le catene gli caddero dalle mani e l'angelo disse cingiti e legati sandali e Pietro fece così poi gli disse mettiti il mantello e segui ed egli uscito lo seguiva non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo ma pensando di avere una visione or come ebbero passata la prima e la seconda guardia vennero alla porta di ferro che mette in città la quale si aperse loro da sé ed essendo usciti si inoltrarono per una strada e in quell'istante l'angelo si partì da lui e Pietro rientrato in sé disse ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei Giudei e considerandolo la cosa venne alla casa di Maria madre di Giovanni soprannominato Marco dove molti fratelli stavano raunati e pregavano e avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo una serva chiamata Rode venne ad ascoltare e riconosciuta la voce di Pietro per l'allegrezza non aprì l'uscio ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta e quelli le dissero tu sei pazza ma ella asseverava che era così ed essi dicevano è il suo angelo ma Pietro continuava a picchiare e quando ebbero aperto lo videro e stupirono ecco qui cosa accadde praticamente cosa accadde qui accadde che Erode fece morire Giacomo vedete da una parte qui possiamo vedere che Erode il Dio permise permise ad Erode di mettere a morte Giacomo mentre Pietro lo liberò come avvenne però la liberazione la liberazione di Pietro venne diciamo che Dio gli mandò un angelo per liberarlo però guardate bene la chiesa quando Pietro fu incarcerato la reazione della chiesa quale fu c'è scritto appunto che al versetto 5 12.5 di Atti ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui Pietro era incarcerato e la chiesa faceva delle fervide preghiere per lui sicuramente chiesero che fosse liberato e ciò è avvenuto il Dio ascoltò la preghiera di quella chiesa questo passaggio l'ho voluto ricordare l'esaudimento di questa preghiera perché noi nelle nostre preghiere ci dobbiamo sempre ricordare di pregare per la chiesa perseguitata ci dobbiamo sempre ricordare di chiedere che Dio liberi quelli che sono stati ingiustamente carcerati a cagione del nome di Cristo non ce lo dobbiamo dimenticare mai e non solo dobbiamo pregare per la chiesa perseguitata non solo per questo ma dobbiamo anche pregare in maniera fervente zelante con ardore col fuoco con fede perché la chiesa per Pietro lanciò delle fecce delle fervide preghiere con un fervore con uno zelo con un calore che non era comune lo fecero veramente con tutto il cuore quindi questo è l'animo che ci deve ci deve spingere quando andiamo a pregare anche per la chiesa perseguitata perché noi non è che dobbiamo pregare solo per noi stessi non è che la chiesa deve pregare solo per se stessi solo ognuno deve pregare per se stesso ma dobbiamo anche pregare intercedere per i santi dobbiamo pregare intercedere per i malati per i bisognosi dobbiamo intercedere per i poveri dobbiamo intercedere per la chiesa perseguitata non ve lo dimenticate mai mettetelo scrivetelo nella vostra lista di preghiera bisogna pregare per la chiesa perseguitata per i carcerati per a cagione del nome di cristo bisogna pregare e non solo bisogna pregare tanto così per farlo bisogna pregare con tutto il cuore come dice in un altro passaggio biblico come se noi fossimo in carcere con loro pronti a morire capite questo è l'ardore è il fuoco che deve accendere le nostre preghiere dobbiamo farlo come se noi fossimo in carcere con loro e stanno per venire per ucciderci per torturarci questo deve essere il sentimento che ci deve muovere in questo tipo di preghiera e badate bene dobbiamo avere fiducia che il signore ascolta queste preghiere come ha ascoltato le preghiere della 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 chiesa che che poi dio ha ascoltando queste preghiere ha esaudito queste preghiere e ha liberato l'apostolo pietro lo ha liberato l'ha liberato dopo leggendo più avanti noi vediamo che che anche erode poi fu punito perché il dio è vero ha permesso che giacomo fosse fosse ucciso quindi erode ha fatto un gran male vedete ha toccato un figliolo dell'iddio vivente un servitore di dio poi diciamo ha permesso iddio che fosse carcerato anche pietro però qui non ha permesso che lui morisse ma lo ha liberato e la fine la fine che fece la fine che fece che fece erode fu quella che dopo leggiamo al versetto versetto 23 quindi 12 23 di atti c'è scritto in quell'istante un angelo del signore lo percosse ad erode un angelo del signore lo percosse perché non aveva dato a dio la gloria e morì roso dai vermi quindi vedete questa fu la vendetta di dio non solo perché erode non diede gloria a dio ma anche perché fece uccidere giacomo fece imprigionare pietro insomma stava facendo molte cose malvace e il dio lo ha punito vedete questo lo dico per ricordare che il dio è il dio nel nuovo testamento punisce sotto la grazia il dio punisce quelli che peccano li punisce li punisce ha pazienza il dio è paziente però viene il momento in cui in cui dio punisce quelli che peccano quelli che sono malvagi viene il momento in cui dio può farli anche morire per erode avvenne questo che un angelo gli fu mandato contro l'angelo lo percosse e erode morì roso dai vermi morì proprio in una maniera terribile e anche questo dobbiamo ricordarlo che il dio è giusto il dio è buono e misericordioso lento all'ira ma è anche giusto viene il momento in cui in cui egli manda i suoi giudizi adesso volevo parlarvi invece di un'altra cosa di quello che dice giacomo a conclusione del nostro discorso di oggi del nostro delle preghiere che abbiamo citato oggi volevo concludere con le parole di giacomo per farvi riflettere su una certa cosa giacomo capitolo 5 versetto dal versetto 16 16 17 confessate dunque i falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia ilia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi e pregò ardentemente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto quindi fratelli cosa accadde accadde che elia pregò ai tempi del re acab pregò e il cielo si chiuse non venne la pioggia non c'era ruggiata tre anni e mezzo senza acqua neanche una goccia poi dopo elia pregò pregò e venne la pioggia la pioggia venne ma badate bene cosa dice qui cosa dice giacomo voglio voglio farvi notare queste parole dice elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi perché dice questo perché perché qualcuno potrebbe pensare a vabbè ma il re zecchia era il re zecchia mosè che ha ottenuto l'esaudimento della preghiera quando giosuè combatteva contro gli amalechiti era perché lui era mosè e così tutti gli altri pietro ha pregato per quella don per tabita ed è risuscitata perché era pietro sì però qui le scritture stanno dicendo che elia è così pietro e così mosè erano tutti sottoposti alle stesse passioni che noi erano uomini di carne e ossa come lo siamo noi avevano le no le debolezze che abbiamo noi le avevano anche loro lo spirito santo ce l'avevano loro e ce l'abbiamo anche noi oggi quindi non ci non dobbiamo cercare giustificazioni per 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 le nostre preghiere non dobbiamo dire ah ma lui era mosè era un uomo superiore a noi io non c'ho nulla a che fare con mosè lui e veniva esaudito perché era mosè sì ma anche tu sei un figliolo dell'idio altissimo oggi e siccome elia era sottoposto alle stesse passioni che noi vuole dire che era un uomo di carne e polvere come noi sbagliava come noi era stato preso se voi leggete la storia di elia vedrete che un uomo come noi vide una grande potenza di dio quando fece scendere fuoco dal cielo per bruciare un sacrificio e poi venne una 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 minaccia di una donna malvagia e scappo via per la paura di di essere ucciso quello era elia perché questo perché era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi quindi fratelli come elia pregava e veniva esaudito così mosè così tutti gli altri anna ezechia pietro va bene erano tutte persone sottoposte alle stesse passioni che noi erano tutte persone che avevano carne e ossa come noi erano uomini deboli come noi hanno invocato il dio con piena fiducia e il dio li ha esauditi ecco questa piena fiducia la dobbiamo avere anche noi una piena fiducia che dio ci ascolta ognuno di noi non importa se i nostri nomi sono sconosciuti al mondo non importa se a noi nessuno ci conosce non siamo importanti non importa il dio per dio siamo tutti importanti per il signore nessuno il dio non abbandona neanche uno dei suoi figlioli perché si ha fatto morire il suo figliolo anche solo per un per uno dei suoi figlioli si è fatto morire gesù cristo il suo amato figliolo per la salvezza di ciascuno di noi anche se fosse stato uno solo avrebbe dovuto comprarlo a quel prezzo quindi vuol dire che il signore ci guarda vuol dire che il signore guarda anche a noi quindi non possiamo assolutamente pensare che noi non siamo non siamo ascoltati da dio perché non siamo nulla no noi abbiamo un grande valore noi siamo figlioli dell'idio altissimo siamo stati comprati a prezzo e quando ci inginocchiamo per pregare il dio ci ascolta queste sono cose certe io non ve le dico così tanto perché per dirvele sono cose certe e quando ogni volta che il signore mi esaudisce badate bene a volte è capitato anche volte mi sono inginocchiato pregato non è passata neanche mezz'ora e dio mi ha esaudito e dio è glorioso e potente e non c'è cosa più meravigliosa che edifica il nostro cuore che quando una preghiera viene esaudita però se non preghiamo come facciamo a godere di questa benedizione di vedere le nostre preghiere esaudite quindi ci dobbiamo mettere di impegno inginocchiarci e perseverare nella preghiera però per ottenere però ottenere l'esaudimento di queste preghiere e senza sminuirci non dobbiamo crederci più di quello che siamo ma non dobbiamo crederci neanche di meno di quello che siamo perché noi siamo come elia siamo sottoposti alle stesse passioni che lui elia era debole come un uomo era debole era forte spiritualmente quando a volte era forte spiritualmente altre volte era debole così come come lo siamo noi oggi quindi innalziamo le nostre preghiere al signore con piena fiducia perché egli ci ascolta egli ci ascolta ci esaudisce se noi però preghiamo con tutto il cuore con tutto il cuore e avendo fiducia avendo fiducia in lui e ci esaudisce se ci esaudisce se quello che chiediamo naturalmente è secondo la sua volontà talvolta noi abbiamo delle sofferenze delle malattie che ci rimangono ma ci rimangono perché hanno uno scopo ben preciso ci rimangono perché come abbiamo detto quando il viso è triste è mesto quando il viso è mesto il cuore è migliore quindi il signore guarda al cuore questo è vero principalmente al cuore signore guarda al cuore quindi farà fa di tutto per affinché il nostro cuore sia come a lui piace questa era l'esortazione fratelli a pregare a pregare a sentire queste grandi benedizioni che si ottengono nel leggere l'esaudimento di certe preghiere voi ne potete trovare anche altre nelle scritture nelle testimonianze e tutto queste queste preghiere che vengono esaudite ci esortano ci spingono anche a noi a desiderare di pregare e di ottenere l'esaudimento senza nessun limite non ponete limiti chiedete quello che il vostro cuore desidera chiedete perché il signore se è nella sua volontà egli ve lo dà se no non vi sarà dato però gradisce che vengano chieste che certe cose vengano chieste quindi chiedete pure chiedete pure e non non gettatevi via perché voi tutti che avete creduto in cristo siete figlioli dell'idio altissimo quindi siete stati comprati e non è che siete stati comprati per essere accantonati e non ascoltati siete stati comprati per servire l'idio vivente per pregare ed essere anche esauditi come lo era a Elia e come lo sono stati tutti gli altri uomini di Dio questa era l'esortazione che volevo rivolgervi questa sera fratelli e sorelle del signore a dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen